Ad aprile l'indice del disagio sociale di Confcommercio si è attestato su un valore stimato di 16,7 in moderato aumento rispetto al mese precedente. Il dato dell'ultimo mese è sintesi di una ripresa dell'inflazione per i prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto e di un lieve miglioramento della componente relativa alla disoccupazione. Anche ad aprile il mercato del lavoro ha mostrato elementi di vivacità. Il numero di occupati è aumentato di 48.000 unità sul mese precedente e le persone in cerca di lavoro sono diminuite di 14.000 unità. Nello stesso periodo il numero di persone inattive si è ridotto di 25.000 unità. Ad aprile i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto hanno mostrato un aumento su base anno del 7,9 per cento in accelerazione rispetto al mese precedente. Le prime stime di maggio segnalano un rallentamento del tasso di crescita dei prezzi per questa tipologia di beni e servizi. I dati degli ultimi mesi pur confermando la solidità del processo di rientro non attennano i timori di un percorso lento e questo incide sul disagio sociale. Secondo Confcommercio le difficoltà delle famiglie si potrebbero tradurre in un rallentamento della domanda e dell'economia.